... Sono iniziate oggi nel Mar Nero le esercitazioni militari della NATO Sea Breeze 2016 a soli due giorni di distanza dalla fine delle Rapid Trident nell'Ucraina occidentale Le manovre marittime nel Mar Nero vedono la partecipazione di 25 navi da guerra appartenenti alle flotte statunitense bulgara, greca, romena, turca, spagnola e ucraina La fase terrestre delle esercitazioni si svolgerà nelle regioni ucraine di Odessa e di Mikhalayev e coinvolgerà un migliaio di soldati americani Le manovre NATO lungo l'intero perimetro occidentale della Federazione Russa si susseguono una dopo l'altra nonostante le proteste della popolazione europea contro l'ostilità di Bruxelles e di Washington nei confronti di Mosca Daesh rivuole Palmira I terroristi dell'organizzazione islamica starebbero per raggiungere Tadmor alle cui porte giacciono le rovine dell'antica città Ed è proprio nei pressi di Palmira che i terroristi islamici lo scorso venerdì hanno abbattuto l'elicottero siriano Mi-25 pilotato da due istruttori russi dopo che questi avevano sventato l'attacco di Daesh contro le truppe di Damasco Nel frattempo per sopperire alle recenti sconfitte in Siria e in Iraq l'organizzazione terroristica starebbe inviando i propri kamikaze nell'Unione Europea attraverso l'Azerbaijan, la Georgia e Cipro per mettere in atto nuovi attentati A comunicarlo è il quotidiano turco Milliyet citando una fonte all'interno dei servizi segreti di Ankara Il senato di Varsavia ha approvato una mozione che definisce genocidio il massacro di Volin perpetrato dai nazionalisti ucraini nel 1943 contro i polacchi della Volinia 73 anni fa i collaborazionisti dell'esercito insurrezionale ucraino attaccarono i villaggi polacchi della Volinia nell'Ucraina occidentale ammazzando 100.000 persone principalmente donne, anziani e bambini Le violenze contro gli abitanti delle regioni occidentali dell'Ucraina di etnia polacca, russa ed ebrea continuarono fino all'arrivo dell'esercito sovietico La decisione dei senatori polacchi ha provocato un'ondata di risentimento a Kiev dove i membri dell'esercito insurrezionale ucraino sono stati dichiarati combattenti per la libertà nel 2015 Therese May May spingeva per le elezioni anticipate sostenendo che il primo ministro fosse spaventato dall'idea di nuove elezioni Forse è la stessa paura da animare Therese May? Come osserva The Times, se Jeremy Colby rimarrà leader dei labor potrebbe crearsi della pressione tra uno Conservatives per andare al voto L'altro nodo cruciale è l'Unione Europea Brexit è Brexit e noi ne faremo un successo ha detto stamane May Ma tutti si chiedono cosa questo voglia dire May ha dichiarato che l'articolo 50 del Trattato di Lisbona non sarà attivato prima del prossimo anno e che istituirà uno speciale dipartimento solo per i negoziati su Brexit Ma forti preoccupazioni ruotano attorno allo status degli europei residenti nel Regno di Sua Maestà e sui milioni di britannici residenti all'estero Sui primi, May ha sempre mantenuto una forte ambiguità riguardo al loro diritto di permanenza Inoltre, durante la campagna referendaria la May è stata un'accesa sostenitrice del ritiro del Regno Unito dalla Convenzione Europea sui diritti umani anche se col suo nuovo mandato pare abbia messo da parte tale obiettivo Ora avrà solo 48 ore per scegliere i membri del suo governo Ci sono rumori di impossibile riciclo del cancelliere George Osborne come Ministro degli Esteri e della contendente Andrea Letson in qualche ruolo chiave Ciao